Vuoi mettere in evidenza la tua attività professionale? Vuoi far conoscere a tutti le tue doti artistiche e creative che ti distinguono? Adesso puoi! È nato infatti Work in Progress, il format a cura della redazione di Europa Web TV, che ti aiuterà a rendere pubblico ogni messaggio o prodotto come un vero blogger. In diretta online, in modo semplice e veloce, realizzeremo un'esclusiva intervista a te dedicata allo scopo di comunicare in modo diretto ed efficace con il mondo del web attraverso un video originale e di successo. Per ulteriori informazioni su Work in Progress, contattaci al numero in sovraimpressione o tramite il sito www.europawebtv.it Inoltre, potrai seguire le nostre produzioni attraverso le pagine social. Non perdere tempo e ricorda, Work in Progress, per vivere un momento da protagonista. It's not a